Wewe ragazzi e bentornati in questo nuovissimo episodio speciale su Sara Anticoccole Allora in questo video vi mostrerò tre build su Sara Anticoccole Perché ho deciso di fare questo video? Innanzitutto mi sembrava un'idea carina aggiornare quello che è l'eroe E soprattutto non ho mai incentrato un episodio su di lei L'ho sempre messa qua e là nelle bid, l'ho fatta vedere in qualche video, vi ho fatto vedere qualcosa qua e là Ma diciamo che non vi ho mai espresso il mio parere su di lei Quest'oggi però voglio fare qualcosa di diverso dal solito Quest'oggi vi mostrerò Sara Anticoccole abbinata a tre armi diverse Quindi abbinandola a tre armi diverse abbiamo completato tre build differenti Ad ognuna delle quali andremo ad abbinare una specifica arma La prima build che vi andrò a mostrare ovviamente quella con fonte di bioenergia Fonte di bioenergia ci recupera scudo pari a 0,25% dell'energia persa E visto che questo eroe ci dà tantissima energia Andremo a incentrare ovviamente queste build sullo spam di attacchi secondari Vi farò vedere le mie tre armi preferite con cui spammo gli attacchi secondari Però attenzione che non saranno gli unici metodi Se questo episodio vi piace ne porterò un altro sia su questo eroe sia su altri eroi Quindi mi raccomando iniziate a spolliciare coi like Passiamo subito al dunque Abbiamo colpo del cavaliere aumentiamo l'impatto degli attrezzi Artigli di dinosauro Aggiungiamo 5,5% di salute attuale ai danni d'arma da mischia Incrementiamo i danni degli attrezzi del 17% Buttando giù il teatro Le eliminazioni con gli attacchi pesanti danno 12,5% di possibilità di ottenere rifrockeggiante Perché noi andremo a spammare quello che è l'attacco secondario E software aumenta l'efficienza energetica degli attacchi pesanti con attrezzi del 65% Quindi con questa build abbiamo incentrato i danni con gli attrezzi Perché vi farò vedere precisamente un martello Attenti però da questa build voi dovete sacrificare una perk per aggiungervi il survivalista Perché come avrete notato in queste build io non ho utilizzato il survivalista Perché? Perché visto che lo utilizzo sempre e visto che molti di voi lo danno per scontato Ho deciso di non metterlo per farvi vedere appunto se cambierà qualcosa In sostanza poi il survivalista va anche in base al livello della zona in cui giocate In base al vostro livello eccetera eccetera Ci sono tanti fattori da considerare Diciamo che il survivalista è comodo anche in solo Mentre comunque se siamo con un team possiamo contare sempre sul team che ci resta Che ci cure eccetera eccetera Insomma salva al mondo è un gioco strategico lo ripeto Quindi senza perdere troppo tempo in chiacchiere Che arma andrò a utilizzare con questa build? Ovviamente il contorci a bietti Perché il contorci a bietti è un hardware fantascienza retro Un pratico martello con un basso impatto e danni elevati Buco nero Un attacco pesante che tira gli abbietti verso il martello per poi infliggere danni Infatti per chi di voi non l'avesse notato L'attacco secondario di quest'arma ci dà modo di fare uno schianto in terra col martello E tirare quelli che sono gli zombie circostanti attorno a noi E infliggere il danno successivamente Perciò non solo verranno attirati verso di noi Ma infliggeremo anche il danno Quindi possiamo contare su un attacco secondario veramente veramente stabile E veramente veramente potente Un lato svantaggioso di utilizzare quest'arma è appunto quando ci si presentano Quelli col frigorifero in mano Essi saranno veramente un problema E poi in quanto comunque non possiamo spammare veramente l'attacco pesante alternativo Come lo facciamo sulla falcia al vapore eccetera eccetera Non dico che finiamo l'energia Perché come vedete possiamo benissimo tirare avanti all'infinito Però passa un po' di tempo tra un attacco e l'altro Quindi non abbiamo la stessa rigenerazione di scudo che abbiamo sulla falcia al vapore Su questa particolare build quindi vi consiglio sì una perk di survivalista se vi serve Comunque quello lo valutate voi La seconda build che vi andrò a mostrare sempre con Sara anticoccole Questa volta ritorno di fiamma Ritorno di fiamma perché su questa particolare build abbiamo bisogno di un recupero di energia Veramente veramente elevato Il perché lo capirete presto In pratica abbiamo ovviamente aggiunto le perk sulle lance Quindi aumentiamo l'efficienza energetica degli attacchi pesanti con le lance Poi aumentiamo la corazza visto che comunque siamo già senza scudo e abbiamo il ritorno di fiamma Concentrazione di dinosauro mentre lo scudo esaurito rigenera 4 energie al secondo E artigli di dinosauro Ovviamente abbiamo aggiunto sempre buttando giù il teatro Allora con questa particolare build andremo a utilizzare la spaccatimpani Ebbene sì lancia stereoportatile Una lancia che infligge danni gravi con attacchi in affondo a lunga distanza Impulso sonico colpisce il terreno con la lancia convogliando i danni e respingendo i nemici circostanti E allo stesso tempo conferisce un bonus danni temporaneo a te e agli alleati E' cumulabile fino a 4 volte Quindi con questa particolare build noi avremo modo di incrementare la nostra energia e spammare l'attacco alternativo Perché abbiamo bisogno di così tanta energia voi direte? Perché con l'attacco secondario di quest'arma noi non potremo muoverci a differenza del martello A differenza dell'arma che vedremo dopo Non abbiamo la possibilità di movimento durante l'attacco Certo possiamo sempre toglierci e rifarlo avete ragione Però cerchiamo di ottimizzare il tutto Quindi cosa succede? Se noi andremo a utilizzare nello spawn kill quello che è l'attacco secondario Ci saranno sempre mostri della nebbia, streghe e frigoriferi che comunque ci daranno parecchio fastidio Sia che ci sparano da lontano, che ci lanciano le puzzette da lontano I frigoriferi che ci pusciano addosso manco fossero cararmati Insomma chi gioca con queste armi mi capisce bene Ecco perché comunque quest'arma sì è bella, è divertentissima, è ottima, è fortissima Però ha i suoi momenti di utilizzo Ovvero io mi trovo bene quando non ho i permessi Alla fine dei tunnel, quando ci sono quei tunnel fatti male Insomma dove passano un po' di zombie Ecco io mi metto lì con l'attacco spammato alternativo In modo che comunque non faccio danno alle bombole eccetera eccetera E riesco veramente a cavarmela La terza build che invece vi andrò a mostrare Che resta pur sempre la migliore, la mia preferita E l'abbiamo già vista in tanti altri video Però non potevo non citarla in questo video Ed è quella con fonte di bioenergia, artigli di dinosauro Buttando giù il teatro, chi non muore si rimiete Quindi incrementiamo i danni della falce del 25% I colpi corrosivi E infliggere danni d'arma da mischia fornisce un assassino Insomma raga voi la build ve la potete gestire voi Potete aumentare il livello critico Potete utilizzare la perk nuova eccetera eccetera Però questa per quanto riguarda la resistenza Resta pur sempre la mia preferita La fonte di bioenergia con la falce al vapore È qualcosa di impressionante Se volete sopravvivere maggiormente Ovviamente vi consiglio di inserire anche qui Assolutamente il survivalista In quanto è veramente utilissimo qua il survivalista Anzi in tutte le build è utilissimo Però qui diventerete parecchio immortali Cosa vi consiglio di togliere? A questo punto vi consiglio di togliere assassinio E utilizzare il survivalista In modo che voi veramente siate immortali Ogni volta che voi spammate l'attacco alternativo Della falce al vapore che è veramente veloce Riprenderete lo scudo E nel momento in cui killerete gli zombie Riprenderete anche la vita È una build perfetta con la perk del survivalista Quindi raga Quindi survivalista nella build E questa è quella che vi consiglio maggiormente Poi se volete optare per danni maggiori eccetera eccetera Fate quello che vi pare raga Se comunque gli zombie sono bassi Vi ripeto avete i compagni che vi restano eccetera eccetera Non avete bisogno del survivalista Insomma basta stare un attimo allerta E non è che dovete stare otto minuti fissi nello sponchi La spammare l'attacco eh Cioè chiariamoci Che dire raga Questo era il mio video speciale su saranti coccole Spero che vi sia piaciuto Spero che abbiate apprezzato l'idea Ci ho tenuto molto a mostrarvelo In quanto veramente c'erano parecchie incomprensioni Parecchie persone che mi chiedevano Come faccio questa build Come faccio quell'altra Ho visto il martello che fa l'attacco alternativo E tira gli zombie a sé Insomma ho cercato di racchiudere tutto in un singolo video E cercando di mostrarvi il tutto al meglio Vi ricordo solamente di lasciare un bel like Se questo video vi è piaciuto mi raccomando Fatemi sapere con un commento voi quale build utilizzate E quale delle seguenti è la vostra preferita E potrei fare anche un secondo episodio su saranti coccole Attenzione Per oggi è tutto Noi ci vediamo domani Bella bella